Ah, notizia fresca fresca appena stata pubblicata. In realtà a questo video fa riferimento al 23 settembre, quindi sette giorni fa. È stato appena pubblicato da un account su X che si chiama Geopolitics DD. È stato condiviso, poi è rimbalzato da più fonti. Quindi quello che ci viene mostrato in questo video di 16 secondi è un paio di fotografie e quello che è stato definito come un incidente in Alaska, sui cieli dell'Alaska. In quello che sembra una missione di combattimento, almeno di scorta, a un Tu-95 russo, scortato da dei Su-35, che hanno incontrato degli F-16 americani. Allora, secondo il sito Bulgarian Military, il 23 settembre quattro aerei russi hanno sconfinato nei cieli dell'Alaska, attivando così il sistema di difesa aerea degli Stati Uniti. Questa azione di risposta degli Stati Uniti è stata normale per quella che è lo spazio di competenza degli Stati Uniti, che si è attivato per intercettare e scortare come consueto, come sempre avviene in questi sconfinamenti da parte russa, scortarli fuori dallo spazio aereo. Quindi, quello che è successo in poche parole è che questi pacchetti di velivoli russi, facenti parte dell'operazione navale, che è esercitazione navale chiamata Oceans 2024, di cui, fra l'altro, vi ho già parlato nei miei video precedenti, in quanto questa esercitazione navale avviene nel Pacifico, nel Mar del Giappone, così verso il Nord America. Ha coinvolto non solo la Marina della Russia, ma anche quella cinese, con conseguenti anche pattugliatori marittimi, come lo sono questi Tu-95. Quindi non è insolito che questi Tu-95 viaggino accompagnati dalla scorta. Quello che la professionalità dei piloti Nato prevede è che questi aerei, nel caso in cui sconfinino, vengano accompagnati fuori dallo spazio aereo. Ora, quello che vi sto per mostrare, adesso arriviamo al dunque. In queste immagini tenetevi forte, perché è un video abbastanza scioccante, poi farò le dovute conclusioni. Partiamo. 3, 2, 1, via. Partiamo. 3, 2, 1, via. Avete notato anche voi che c'è stata questa bravata da parte del pilota russo, che insomma, con questo passaggio ora avvicinato, ha voluto fare la classica provocazione. Ora, questo non è professionale, ovviamente. Qui ci sono anche le foto, un attimo prima del passaggio. Possiamo vedere qui il Tu-95, il Su-35 equipaggiato con due pod per la guerra elettronica o ricognizione, quello che è, e due semplici R-73, quindi praticamente disarmato, ruolo prettamente nominale. Mentre qui vediamo l'ala sinistra dell'F-16 equipaggiato con AIM-120C o D, quindi i migliori missili che gli americani hanno, e degli AIM-9M tradizionali. Questa è quindi la seconda foto, questa è un'altra foto un attimo prima del passaggio. Come vedete è un stato molto rischioso, nell'ordine dei 5-6 metri di distanza laterale. Insomma, non è stata una bella cosa da fare, assolutamente, non si fa, non è professionale. E non è la prima volta che succede, visto, adesso prendo alcuni casi più storici. Un altro incidente molto simile è successo nel 2016, Su-24 ha passato molto velocemente allo stesso modo un F-15 americano sul Mar Nero. Nel 2020 un F-22 è stato approcciato allo stesso modo da un Su-30 sopra il Mediterraneo. Insomma, questi incidenti, perché si parla di incidenti, quasi incidenti, quasi collisioni, non sono una gran cosa. Perché, che cosa succede? Sono delle provocazioni che possono facilmente creare delle tensioni internazionali. Non c'è nessun motivo per fare queste bravate e non è assolutamente professionale. Ma, come dire, no, in questo periodo, dalla parte russa, ne stiamo vedendo di tutti i colori. Quindi, questo è un video piuttosto breve, solo per commentare questo fatto, di questo video appena pubblicato, che risale al 23 settembre. Come vedete, è già stato condiviso decine e decine di volte. Ovviamente ci saranno tanti commenti. In realtà è una cosa molto stupida, molto stupida da fare. È stata una cosa estremamente stupida. E fra l'altro ci sono due cose che vorrei dire. A proposito, un attimo, ecco, prendo il video originale. Ci sono due cose, due considerazioni finali che vorrei fare. Allora, vabbè, tolta la stupidità del gesto e la completa inutilità. La prima cosa è che il pilota russo ha rischiato la vita, tanto quello americano ha messo in pericolo la sua vita, è quella del pilota americano. Stupidamente. La seconda cosa è, no, l'idiozia di fare un passaggio radente così. Ok. Per che cosa? Per metterti davanti al suo muso, così ti può sparare meglio? Cioè, a questo punto, per il pilota TF-16 sarebbe bastato switchare un pulsante, agganciare il pilota russo, fine, sarebbe morto nel giro di tre secondi. Quindi, cosa ha ottenuto passandogli così davanti al muso? Doppiamente stupido. Quindi, questo è quanto. Rivediamo il video. Si sente il pilota americano esclamare qualcosa come accidenti. Fra l'altro, il movimento che il pilota americano fa è sì, dirò l'io, ma poi c'è anche una leggera, questa sbandata, vedete? Questo penso che sia dovuto all'effetto di scia, quando, appunto, come quando immaginate siete in bicicletta, perché in confronto i due pesi sono importanti. C'è un aereo da 20 tonnellate, l'F-16 è peso più, ma a confronto. Quindi, quando il pilota russo passa davanti all'F-16 c'è un importante effetto scia. Altra cosa, altro piccolo dettaglio che ho notato è che il pilota russo ha dato un colpo di timone, qui, usando i pedali, il che non è, anche questo non è proprio il massimo. Vabbè, sono dettagli. Niente, vi saluto, alla prossima.